Il 9 maggio Città di Castello ha ricordato l'anniversario dell'uccisione di Venanzio Gabriotti da parte di un drappello di nazisti e fascisti ed insieme le vittime del terrorismo. Il programma si è aperto con la messa nella chiesa del Famedio presso il cimiterio monumentale ed ha proseguito con la deposizione della corona presso il museo ai caduti. Quindi il corteo, formato da istituzioni, cittadini, associazioni ed alcune classi delle scuole tifernati, ha raggiunto il Cippo dove gli alunni di San Filippo hanno cantato Bella Ciao, l'inno dell'Europa e quindi l'inno d'Italia. Per l'Associazione Nazionale Partigiani di Città di Castello è intervenuta Anna Pacciarini ricordando la frase di Gabriotti, per un'idea si vive, per un'idea si muore, contenuta nel volume che raccoglie le lettere dei condannati a morte della resistenza. Ci sono tanti modi per resistere, ha aggiunto la Pacciarini. Oggi, ad esempio, significa testimoniare e salvaguardare gli ideali che animarono la lotta di tanti giovani e che ispirarono la Costituzione, ponendole fondamenta per lo Stato italiano libero e democratico. Sergio Polenzani, presidente dell'Istituto Venanzio Gabriotti, che promuove le manifestazioni del 9 maggio, ha sottolineato l'impegno nel mantenere viva la memoria collettiva intorno a quella stagione che a Città di Castello fu vivace e partecipata. A conclusione della manifestazione, le premiazioni delle classi che hanno presentato e lavorati nell'ambito.